Bait da hard, Paolo mori a Ricci Ok, ok Ah, che bel titolo della live che ho messo Amore La live Ti è morto, sei bloccato per YouTube, sei bloccato Non metti mai in un titolo vero No, a me sono sempre la verità E' kickbait sto titolo Come il mio vero Il mio vero No, il mio vero Tembo là che non sono geni di presentazione Ma cosa ho letto su quella maglietta, aiuto? Eh, bamboni Buongiorno Fortnite Song Fortnite 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 Song Lanciarazzi Intrattengo le mie night con gli amici a Fortnite Questi sono tutti passi tra palletti e lanciarazzi Non mi stanco proprio mai Di giocare ore a Fortnite Siamo in cento ma chi sopravviverà Siamo in cento ma uno solo resterà Ma a me che spazio mi canzone Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ma a me Scusa 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 Ora si Allora Volevo Fare una cosa in questa live Una cosa che non facciamo quasi mai No, nell'altra live Ma credi che è morta fa? E' morta ragazzi No, c'è ancora un concetto a quest'ora Sei di L'uomo Dai Pizzo Voi giù Che cosa? Che dove? Quindi startiamo così Che chiedi? Partiamo così Scusa Scusa Ma l'altro ragazzo che ha fatto provino con noi Un municipasto Ma 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 e Ah Ah Eh A Saba A Tutti Qua bail Ciao 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 Minima Ciao 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 Ma questa partita io non mi sento tanto in forma questa sera anche se oggi pomeriggio ho fatto una singola e ho vinto ovviamente fuori dai bui dici dai con me che stai fuori là 600 ball ma faccio una tre sessanta per favore per quanto è giusto che la partita stava macchina fai con un bombolotto non mettete boschetti venga fio venga fino alla ruptata che è per me in giù in giù Ok! Paolo, non so che sono i tuoi! Paolo, sono i tuoi! Sono i tuoi! Paolo, sono i tuoi, Paolo! Ma non è che ne puoi fare. Sta tranquillo, sono appena scendo! Paolo, aiuto! E questi sono tutti i patti tra ballette e lanciate! fortnite live song una fortnite live dance hai sbagliato per se uno uno cristiano stai due vorrei mostrare un nuovo eco hai una grande pistola un grande punto i temi proiettrici butta presso per bene per bene a una volta però per mamma io bevo già perchè non si può mai sapere laggiù chi c'è la brutta gente chiedo venia chiedi chiedi a venia chiedi vabbè mi ha detto ho ho vabbè 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 che vabbè vabbè Sto tenendo la casa che cacuccio Vado a prenderlo con le mie mani E' il bambolotto, stanno a cercare proprio col... Sto tenendo il bambolotto Vai 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 Non è buono perché il bambolotto però eh Sto tenendo il bambolotto Sto tenendo il bambolotto Paolo, stai tenendo il bambolotto Ajuda Sto tenendo il bambolotto, stai tenendo il bambolotto Sto tenendo il bambolotto Preghiate che cosa e poi viene a prenderlo Non c'è bisogno che viene E la mano non ti preoccupare Eh ma qualcosa a me no Siamo andando a prenderlo Si va, si va dalla per scrimo non devi sfidere i murci lascia me la me ancora no stop è bene lascia me la me aspetta che è blu chi teppie io ti faccio morire la fanno ah che sei sto bocchino sto bocchino un fucile a pompa niente vedi sta facendo la cuccia una cosa con la cuccia vai vai annaccio holy fame ma ci piace tutto non ci manca da mamma togliere grazie golden quanti complimenti tu hai tengo pepo bar io ne ho 21 io ho 1 a pompa a pompa però questi sono tutti i pazzi tra balletti e lanciarazzi non sto in forma stasera ragazzi non sto in forma stasera ragazzi non sto in forma io devo prendere il ruolo ma ci pigliate ma ci pigliate proprio per questo sto un po' battuto a pompa il dottore mi ha dato un pinnolo molto pesante un pinnolo ma che non ci sono mai coppie bombe un pinnolo non ci sono mai coppie bombe un pinnolo un pinnolo un pinnolo un pinnolo che è stato in un pinnolo un pinnolo av Lindsay c'è un bamboloco e vieni qua non ci si spera non ci ci spera ho fatto un pinnolo vabbè che va bene il vento è morto questi sono tutti tu mi hai già scassato arriva la sess arriva saluta la mela ciao sessi guarda che ti saluta le saiz ahhh perchè ora nella live si vede meglio perchè l'altra volta con la mamma è uguale la mamma ha la massima qualità si sono una volta si capote hai cambiato qualche cosa nel pc? no ho cambiato guarda guarda una volta a me ah si fuldes però io non ho capito è una capita sta inizia sta inizia ma sai che tu sei una ferma io sto facendo una bombolotta ma hai fatto una bombolotta? è stato una ferma scende sta ferma però ah quanto bello il loot è che oh scarsa per me o fuciti ragazzi o fuciti ragazzi bucchiiii non mi fucilare ragazzi! muovete! vabbè, non mi fucilare! potete lasciare qualcosa non mi fucilare ragazzi! vabbè, stanno accendendo! vabbè, un altro spazio vabbè, vabbè, vabbè vabbè, vabbè è uno su, è uno su è un altro, è un altro, è un altro è un altro, è un altro è un altro, è una red roccia, una red roccia e una a destra ah, ti sei aiuto pure, vabbè dai, ho no si escapato, no, no, non c'è vabbè, vabbè, vabbè no, non puoi mai più che vabbè non puoi mai più che vabbè, vabbè vabbè c'è il cao di alba, c'è un po' di risposta che è stato appunto? ok, ora veloce ok, ora veloce ora veloce se hai fatto oi, ho fatto un po' di fuoco, se ti fai il gioco, se ti fai Ah, non ho fatto nessuno Hai come vedi che vedi, oi? N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N! Ma gli stavano qui? Oh ma, guarda, c'è il mago! Ma non miro! È morto? Eh, è una bomba blu, non le caccia blu È mia, è mia, è tutta mia, tutta mia la bomba è blu mia eh, guarda, scopo l'assalto, è stata tutta un'altra cosa e dai che ho passato, che cazzo? che rollo, piglia qua, che rollo ah, mi servono i scrutini se ce li avete no, c'è già che rollo, sono di che rollo uno miei ma serve uno a me, uno ah, scassato, cazzo, chi stai? un gecchino e chi uno tenete? no, sta candela no, sono un gecchino leggendario io ah, buona mela mia ah, porca puttana ah, ma che cazzo porro capivazzo un Ubericchino ma non l'anno oh sé, faiato me l'avevo si è modificato perché se giù u' l'avevo si è modificato questi, sono tutti pazzi? balletto.. lanciarezza che nome è fantasioso si si no te lo frate è filadelfia ma mamma siamo ricotto non ci siamo calbani aaaah nooo gente grandi ma vena io tutti vado per me li hagi capito ahi seee se ma seee ora mele pure a me aiuto io ho due mele qua gli faccio e kill e ho fottuto l'ulto ti hai più po' fatto e mele che ti nooo nooo spara non è il fuoco no va qui è paolo tutto che fuo simpatica allora se ne avresti fuo simpatica no ti schiatti mamati io non mi tu bevi te lo faccio nè da sotto come hai fatto prima quando te lo fermo braaaava ma allora che coppia bella c'è la tenata ma no ma no 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 s Santo ho preso anche poche materiali mi sono in grado c'è l'ultimo che lui mi ha dato da quale però è un po' Si è in un po' di spazio Si è in un po' di spazio Cosa stai a con ferro quando stai a scappare la montagna Come? Cosa è morto E si è a scappare la montagna con ferro Quindi posso lasciarti immaginare Oh chi ha sparato? Ehm, quando erano sparati Lock? Lock 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 Oh, l'anemi è morto Stanno a scappare Ma che mi sta scappare? Po stai scappare No, l'anemi è morto Ok, l'anemi è morto Ma' già si è morto Ma' già si è morto Com' già si è morto No, con l'anemi è morto Ok, si è morto Duolere Ne sono stai Oh per la partita non si fanno niente stiamo soffrendo perchè quando contiamo un team potremmo pusharli ma pusha perchè mi stanno tornando un capanato in modo che mi fai tanto se fai tanto un ultimo se c'è po' di mare la bucchini rimbamore non sto mai a pusha che lo vabbè la bucchia che capite che già fai si deve pusha no voglio ma non c'è capito una cosa non c'è capito una cosa non c'è capito una cosa questi sono tutti i pezzi c'è un problema cazzo vuoi? cazzo vuoi Paolo? no non ci sono mutati in gioco poi ci sono mutati ma non c'è capito una cosa non c'è capito una cosa non c'è capito una cosa Ma non mi sembra neanche di aver bestemmiato Eh usano solo loro, ma io non mi pare che la caccia è stammata Come dire perché va in banca C'è gente di merda ragazzi eh Gente di pupu E' a giù un bubio 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 Come se è un bubio E' a giù anche Un bubio E' a giù un bubio E' a giù un bubio E' a giù un bubio Sto arrivando Vabbè mi vuoi dire ma prendi il rush, ma io non muro tanto Non mi fanno niente, non mi fanno niente a questa cosa Tu vuoi mettere il kit per carmen Ma prendi il kit per carmen Ma prendi il kit per carmen Ma lo sai Ma quella domanda, mi conviene prendiamo il Thompson? Ma prendi il kit per carmen Ma prendi il kit per carmen Ma prendi il kit per carmen Ma prendiamo il Thompson Massimo Ma prendi il kit per carmen E' uguale E' uguale Ma prendo i Konrad Ma prendi i W Ma prendi il kit perennol Ma tu gli hai dato E' uguale Ma prendi il kit per carmen E' uguale Ma è ungrenzo Ma España Oh não è venuto pure, guarda, di morire, che ha già fatto? si, non morire per la trappola hanno detto in chat che tu l'hai detto, ma io non mi ricordo si, si ha detto la trappola eh, io... ah, scusate, non capiva cosa fa la trappola, non era capito portmai, si, ritorni bene calma, calma ragazzi, beh qui non mi segue su Instagram scrivete così, lo dico io allora, scrivete Carolina Vrenzola il mio profilo personale Carolina Vrenzola Carolina Vrenzola Carolina Vrenzola ok? vedete, stanno 10.000 seguaci come la leva, va bene? andatemi a seguire Momo e mandatemi una foto di quando state guardando la live in questo frangento oh, c'è stato uno qua no, aspetta, vai stavo cusci, eh il giallo ti manca di ciò è un bambolotto, sta fin è un bambolotto, poi mandatemi un scuono, no no dai tu, ti ho fissato il giallo di cosa vado a fare l'altro, come se mi cagli ma che te va a fare lì? stavo cusci ah, sinistro ah, sta finno, è un bambolotto, ma non riesco a guarda che ci ho sparo qua e cacca 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 sta costruendo un bambolotto eh, guardate che mi ha già subitato guardate che mi ha già subitato il bambolotto no, ce l'ha lasciato ai tu, non lo fa niente ah guarda un bambolotto ma non mi sparo ma non mi sparo che c'è? ma come sei cagliato? hai dato un bambolotto hai dato un bambolotto hai dato un bambolotto oh, ma che c'è teneghi? ho trovato, ho trovato, ho trovato ma erano figli e bambolotti scusate erano bambolotti figli erano bambolotti figli erano bambolotti figli erano un assalto, non serve a me stiamo f*** non lo so, io so sicuramente che ti riesco a fare lì so sicuramente che non ho ma io caccio molere non fa danno caccio ragazzi aspetta le foto che mi mandate su carolina vrenzo la instagram eh ragazzi vi aspetta qui siamo tutti i matti perci ormè sta inceppata tutta lei non è una muffa di te è muffa ragazzi aspettate che andate a seguire mandatemi una foto che state guardando la liber ok vediamo chi te è morto è nata volta sto senza materiale papà quando lo tieni tu? tanto che manchè tanto che manchè tanto che manchè tricendio di legno in basso guarda attacchino guarda attacchino guarda attacchino guarda attacchino guarda attacchino Mississippi anna barbato di luod e c'è anche le cuore giuro di la guadagnia telefono cuoricino anche per te E' fuori giro per Pasquale Pronto Danny dopo se vuoi entrare A giocare con noi non ci stanno problemi Ma sono deceduto Sono deceduto pronto Granda pura Luger 081 894 Allora Ed eccoci anche Marrone Emanuele Anche Davi Rossi E c'è anche Lorenzo in segne Ragazzi ne siete parecchi La faccio l'ucozza Ne siete parecchi La faccio quel cazzo Un cuoricino pure a marrone Un cuoricino a Luca Iannacone E non cuoricino a questo Puccio anche uno E un cuoricino pure a Raimo Marco E tu non chiamo a Pinagolo Sei a Pinagolo però Grandissima Pura vincente Grandissima Una cosa Ma di scendere la Ma di scendere la Di scende IARASA è che i lanci abbiamo tutti in mezzo eh guarda qua aschino morì giuro dai è stata ferma bravo non c'è sbagliato lo ha giocato un po' a bambino potrebbe accederlo potrebbe dare una mano a te ma ci si ma perchè ci abbiamo preso? non c'è la sinicolpa non c'è la sua non c'è la sua spara a chi lascia quando moriremo comunque ma ci si chiama che già e ne hai fatto poi metta sotto alla sua Mamma mia Adesso non puoi fare se mi sbaglio lontano Se non erro Vedi? Non mi sbagliavo? Che Carolina non si sbaglia mai Vabbè andiamo a partire Come si fa? Paolo da giambara con il cecchino da giambara Brava qui sui Non so se ci prendi il cecchino o no? Perché non so capace Pgliate il cecchino Paolo ma ora ci fai non c'era questa partita tu? No Paolo 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 Uuuu Come andiamo Paolo? Che lì sta a film? Ui Ma era una musica Ma era una santa Paolo è inzaiffo 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 Allora aspettate Ametranog Non ho ancora una fotografia Uoricino Mario Fefefefefefefefe Uoricino anche a te Luigi Uoricino anche a te Gianni Un uoricino per te Un uoricino pure a Anto Ferrelli Grande Anto Ferrelli E un uoricino pure a Checco che gli è gammera Ragazzi sono troppi Porca puttana Ragazzi E siete troppi Porca puttana Sono troppi messaggi Paglio Allora più mandano messaggi Più il vostro messaggio va sotto Quindi poi lo seguiremo Ehm Puoi essere una cosa Che è fresca fresca Paolo ma come me lo consiglio Che pesco a limone Io A limone Paolo ti piace la limone Si ma ci vedi che la pesca oggi Ma non mi piace proprio Già in tua mandata eh Paolo Ah ecco Paolo vinci questa parte inzionati Caccia dal team Potremmo prestare la prova Questa mia Guarda 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 Guardaci Guarda Come hai fatto a te fare male Guarda 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 Mi ha fatto con questa montagna Guarda Noi Guarda Sì Guarda Guarda Sì Contro Non discoraggiare che sei forte Guarda 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 che c'è fra l'altro la gt fai dell'hang off eh non mi ripiccio io l'hang off non so se che ero occupato tanto non so se che ero occupato lo stiamo va 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 ti vedi le palle ti vedi le palle guarda che ora non posso andare ora non posso andare guarda che vedi guarda che cosa faccio guarda che l'ha proprio fatto ok ok fai lì Eh, più o po', ci provo per mo' Noi, sono, sono T'ha ci sentito in fulca Ti hai voluto niente, te voluti male, adesso ti manca Chi l'hai che l'ha ragionato è che sei che c'è qua? Babbo, eh... Io lo sapevi perché erano tutto montoagni tanto Come questo cazzo non c'era l'imposte Trappi montoagni stai Ho sete Vado a prendere un po' di tè Pala! Pala! Ah! Te alimone E' chiedere muorta Ah! Ah! questa rotta natale c'è che bomba che bomba ah che fa l'ultimo BALALA BOSCHETTAAAAA RETAID signore SAID lei è presente? RICUESENTE? RICUESENTE Paolo dammi una canzone Sì 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 una canzone Non posso cantare ragazzi Perchè? Eh guarda c'è gente a casa che dorme e qua mi picchiano Ma è meglio un po' Sì capito Sì e allora Sì capito Allora Dammi sempre tanto Sì una canzone Sì usi un po' Sì usi un po' Sì possi un po' Sì usi un po' Non sa che l'ho lover Non credo siamo in pericolo però anzi questa è un bombolotto ma non so se c'è questo la kill è gt thank you è iniziata una mano a ba mb oh no 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 io mi sono morti che la bomba il primo bombolo non lo so la bomba è capace la bomba è iniziata ora aspetta allora aspetta non ti posso guardare non aspetta ecco qua mozi prima no ah bello gubettino ma non si vede no no il tipo e no e ma nu ah no non ah no ah no non qui Sì 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 Bomba single è andato... perché chi? Ah, c'è ancora una Ah, c'è ancora una bomba Ah, c'è ancora una bomba single Oh, c'è ancora una blu Ah, c'è ancora una bomba C'è ancora una bomba C'è ancora una bomba Hai visto che ha fatto i big games? C'è ancora una bomba C'è ancora una bomba In tema del passagionale ha creato un burger che è stato risocchiato il portale e l'hanno messo nel deserto hanno messo in un lama a Londra A Londra? Ah così, mezza una cassetta così Ah Ah, c'è ancora una bomba ma non è la mia Da solito Paolo, ti riesci bene a fare Paolo, ti riesci bene a fare Paolo, ti riesci bene a fare non voglio ripetere più Paolo Paolo, ti riesci bene a fare Paolo Ah, è buono Non c'è l'ho preso qua Non c'è l'ho preso qua Ma c'è l'ho preso qua Ma c'è l'ho preso qua Ah 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 c'è Roma che ha passato sta chat, ma chi so c'è Roma è? 10 euro danny, 1 euro mordermin che stai dicendo? matto l'emozione sì, danny dopo questa, sì danny vi sai che finiamo qui, grazie danny portali quella pu*****a è sempre lui, è sempre Danny è Morgan Milone un euro ragazzi 99 centesimi aaaaaa 99 centesimi 99 centesimi ah faccio il tuo condotto e sono sentito ah ah guarda lo tocco cavico questi sono tutti i pazzi tra barna stai lanciare stai facendo però non mi ha sparato a me non mi ha sparato ma non a me eh esatto non l'ingaggio non l'ingaggio se volete ingaggiare io me lo metto ingaggiamo per me potiamo eh potiamo questo è una leonezza che viene un coppato che sai che sai io che che resta 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 sto venendo arrivo sto venendo Non lo so, non lo so, non lo so Non lo so, non lo so Ma stanno capendo un doggio Non lo so, non lo so Non lo so, non lo so Dico, non lo so Dico, non lo so Non lo so Ma io la safe Adesso Stiamo la safe Eh sì, più forse, non mi sono andata la safe Non c'è anche bene Oh Qu'è che non ti ha mai Non, non ti gà, non ti gà Non ti gà, non ti gà, non ti gà Si, se non avendo il giusto Ora Non 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 nooo che adesso hai dovuto? non mi ha dato il canto non è la tua, non c'è qualcuno oh l'ultima pensiamo che si chiama c'è noi vediamoci qualche roba hai un kit medico, non ti preoccupare va, hai un kit medico, insomma, va voglio mirare un po' a penna, eh non è possibile, non è possibile non è che ho fatto mentre si vive in movimento a sinistra ma no, non posso l'agito dovuto accadere l'agito dovuto accadere l'agito dovuto usare eh, ma l'agito cura però, voglio ma che c***o l'agito, l'agito l'agito, l'agito l'agito cura, voglio l'agito cura guarda l'agito vieni da me, vieni da me, vieni da me oh, ti stai lasciando i ball eh, lo so, lo so aspetta, aspetta, dammi un attimo dammi un attimo dammi un attimo su eben ma, schifo, mi dispannano tanto a me speriamo ancora che sto subiendo la partita ok, ok ok oh ma, ben, ammi c � économica, ma come si fai a ciugano a far realvi qualcosa ok una volta rit crackers ma, come ma i punti che ci conferì veramente attraversa il muro mi spassa Stanno a me, stanno a me, stanno a me, stanno a me, stanno a trevesse a me Cioè, mi sono sceso il cuore, ma io voglio veramente Allora Come cazzo ma lagga Se riesci proprio a giocare Come cazzo ma lagga Poi c'è forza No, in primo minuto chissà Ma non è possibile Come ne vengo qui, ma non fumo come te Ma hai morato, no hai morato la teffa E' un po' che cazzo non ha toccato Hai morito tutto quanto tirati? Si, si, si No, ma a me non mi sparo, questa bomba Non l'ha già usato Non l'ha già mai usato, questa bomba No, no, non mi sparo, non mi sparo Non l'ha già usato Non l'ha già usato Non l'ha già usato Se ne viene di passare colpa attraverso Bocca mamma, te c'è cosa eh a boh eh a boh sto qua che padre anzi non è morto pure chi è morto no ma io però veramente non sto schifartiando perché non è che uno non riesce a vincere perché ne è bravo ma perché è impossibile hai con questa costruzione che ci fa attraverso pure proprio ma che cosa c'è fa un doppio combi merda comunque vai tu volevi fare una partita di tennis ah beh sì ho bucchini di cover ah ah eccolo qui è il nostro capo squadra ma cazzo fa capro io aspettate non ce la faccio io aspettate però eeeh nonna uè no non puoi se ne andate carolina telly perché fa troppo capa non ce la faccio ma 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 mi vai giù ah ok non mi senti carmine si ti sentiamo eh devo riavviare il gioco perché mi si è crashato ma lei la puttana ma lei vai 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 ti aspettiamo vai grazie guarda guardia man mano mi sto sulla mano proprio tengo ventilatura mentre ci sono a Cooper Ahhhh... ...Vagyo io e benze che faccio di domarare di da fortuna e tecchiamo scrucciano. Oh, oh... Oh, 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 oh... Oh, oh... Ahhhh... 2 euro tecnica dice c'è anche far con me ok ok l'ultima partita che faccio grazie oggi il fatto è che sto fortnite ti annoio guarda da un certo punto poi a parte lo sto agendo stasera non ho voglia di non ho voglia non ho proprio tua voglia non ho voglia di giocare a fortnite se non facciamo fortnite che cazzo facciamo al finale quindi non lo so pronto quasi non ti vedo però siamo tutti ma io non vedo a carolini non vedo a carolini non vedo a carolini non vedo a carolini un guardate guardate user left your channel cammina è certa cammina non arrivato niente appa mi è arrivato e provato niente aspetta fammi mettere la selezione in modo la data di gioco si è baggato vai non arriva niente paolo non lo so invita tu provi invita io invita un attimo un attimo cammina mi fa unita e che cazzo è passato anche qua ci mi hanno fatto unita dai alla bottana si è crashato torn no è crashato torn ma i tre cofani a te vabbè vissi sono da capa con giocatemi tre non lo so ecco mamma ben invitami tu devo avere un gioco aspetta che palla posso metterlo a fare sti fatti fortuna te passa proprio il geno vediamo da poco ci sta prendendo portrait eh ma noi se potessi fare un film io mi atteso è solo che poi danno i copyright cioè mi interrompono la live non mi fanno fare vai tu questa è la cosa fosse bello accedere un bello film insieme fosse proprio che cazzo vai tu però purtroppo non è possibile la chat è pura la live se ne è chiude paolo la vedi la live si si che palla vai giù che palla mamma mia e quando è bello ma parte a fortuna appena metto un zombardo si 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 questo si che è troppo ripetitivo ma assai Antonio purtroppo è la stessa cosa seppure giro l'immagine abbiamo già fatto piagge allora fammi invitare paolo che ne te la fa sti fatti eh no no c'è sto home c'è sto home si funziona ok aspetta ho invitato a te e a danny vai vedi un po' ok danny c'è danny invita il tuo amico ok ci siamo non mi invita 50 mila volte però mamma mia passa un invito mamma mia hai posto ragazzi un invito a pass no assangolo un piano in invito ma io non manco è spizia e cazzo cadere voglio ma mi va stancato una volta forte a me mi ha rotto mia pallina no ma è stancato proprio praticamente sembra la stessa cosa sembra lo stesso giro bravo bravo e ciò sta non è proprio se io faccio per esempio non è proprio se io con 2-3 euro è proprio no no è proprio e se fredda è rimane non è così faccio questa ultima partita poi stacco va benissimo faccio un po' di soli proprio che si mette proprio il caolo che ti faccio farsi invece si mette il caolo ma no pure, pure pavero è normale ma non mi fa 50 gradi sciamise il coventilatore ha trinconi l'indedimento pare che sta tuttando il caolo no se il coventilatore mi si è girato si sta acciugando su lui non mi fa ma non mi fa ma non mi fa si dove ci indica lui vieni vai da vai vai vieni sei c'è un gara pescheria pescheria una giampa non c'è nessuno ah si è morto? non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno io ho messo la pistola e io sono morto no c'è nessuno ma non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno ma non c'è nessuno vado ah dove c'è nessuno quale c'è nessuno pavente non c'è nessuno che c'è nessuno c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno si vede nessuno oiii l'uomo stiamo vedendo no, è morto no, no, io ero qui no, non è morto, chi cazzo è morto? chi? ah, ma... Carmine, vedi che sei con qualcuno che ti va a rinca o un dove si sfugga la scosta, la drette ma, car... ah, voi sei pensato Carmine, perché è con qualcuno che ti ha pensato e io è quella che ti va a rincairà ma è un'azienda che mi piace ma non è morto, ma hai morto, ma è morto ma che parlo, che morto sono morto, это lo morto ma che ammazza ma io ce l'ho adottata subito, non stai manco più morto Ehm, questa cosa è un po' qua, non puoi uscire la cacca, se ne vedete. Cacca io ho la gente. Oh, ma che resta l'uomo? E che da gran merda è una roba allora. E Danny si sta mangiando il microfono. Eh, secondo me. Sono ben di scudini. Danny è, alzino ha il problema al microfono. No. Come no, non si deve tutti e tre. Ma no, non si deve tutti e tre. Ma no, non si sta a merda, cacca, fuori, fuori. Ma no, no, sentiamo tu, cacca, fuori. Eh, io lo sento. Guarda sopra quella stella là. Ma sono le bocce. C'è proprio un microfono, Danny. No. No, si tu, Danny. Non me lo dire, no. Si tu, Danny. Non me lo dire, no. Non me lo provo, cacca. No, no. Ecco, non si sente più. Ecco. Eh, si sta faiciando mirlo. Eh, se guardarne là! No, si sente anche qua. Senta guardare, guarda. Sono qui, guarda. Come si stisse maggere un microfono. Se sei sentuto, visto? Eh, sei sentuto tutto, guarda. Se sei sentuto, guarda. Sei bella, capito. Oh, gente qua, stanno smaccando alberi, ai condotti. Stanno smaccando alberi, ai condotti. Stanno smaccando alberi e ai condotti. Sì, sei sentuto tu, guarda. e chi stanno facendo i boscatori? quando è natale? non stiamo andando in casa non stanno aia non è bianco no bella 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 bianco bella bella Tutti morti Alive baby Faccio un medikit Sentetelo con i medikit Mi faccio una band Anche nemmeno No no tengo i medikit Nessuno Come? Colpi dal pompa e nessuno In questa cosa Bisappila 8 colpi qua C'è un bambazzo Se avete ben di più da staccarmi Io? Paolo vieni qua C'è un medikit più C'è un medikit più C'è un medikit più Vieni qua Vieni qua Vieni qua Dimmi tesoro Dimmi Grazie Gazzi ma ci fai un medikit o no Fatti lo faccio qui Fatti lo vai Ha poi un HP di saldo eh Allora Guarda E te ne vengono E dai vai un piccolo sera a te Bene E io Non c'è Eh Sono rotinato Da bambolotto Ahahahahahah Non c'è la bambolotta La bambolotta ha desierito Ma rotinato c'è un po' che c'è qui c'è un po' che c'è qui c'è un po' che c'è qui non è al posto, non è al posto bellissimo ma faccio il cazzo, la unica ci ha passato a tre in dubbio prendo pure io ah, qui, qui, qui oh, mamma non ho mai riso voglio correre, i bambolotti i bambolotti, i bambolotti i bambolotti scendere, mi ha detto, si è messo uno dalla destra marcis ma lo faccio proprio bene con lui, con lui è un po' che è un po' che questo posto è molto schifo non ho idea non ho idea non ho idea non ho idea ah, un po' che cazzo tu bella vieni qua sto volendo sotto sotto posto se tu tu che cazzo è successo ma che cazzo è successo ma che cazzo è successo uno scudino è esportato dove sta? quello che viene da me oh, li vengono a gioco bello, bello bello, bello ragazzi, lasciamo è pronto guarda la sif guarda la sif troppo lontano guarda la sif Paolo, Paolo meglio la sif guarda la sif a sinistra guarda la sif guarda la sif non arriva ecco 19 ma in una sif si si, si Eh si si provino, non ce li metto le quante Ti tengo due jump, ma anche uno, dove ti tengo? Terra! Ok Fatti una jump, fatti una jump Fatti una jump, fatti una jump Voglio ristratenere perchè prima la tenere via, ma è necessario Io penso due Fatti una jump, fatti una jump Fatti una jump, fatti una jump Fatti che abbassi, no? No, fatti più Fatti la grande, fatti la grande Va bene Guarda, non c'è un panno, non c'è Fatti, 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 fatti Fatti, fatti, fatti Fatti, fatti, fatti Fatti, fatti, fatti In modo che non si rompa pure, capite? Sì Hey, scmmi dà cascati He hai lui No quello, a lago No quello, a lago Cacpi una jump rifiuta la 6 Mi Shanghai Ho chiedillo la И Posevi la jump paolo verso destra a caudini paolo di una delle due questa raggiunga e di aroca ma quanta roba carino e non quello che lo fa l'ho! è meglio! lo fa l'ho aperto la formula con me io immagini stai che lo fa l'ho, io non so più ma che hai tre trappole e cinque cose da... mi dai trappole? e poi trappole, si, tutto con le gagne io ne ho una ho fatto una cosa che ha la nap! oh vado vai! io stai già bucato! eh ci non dà una pessima cosa voglio, voglio, qua a set c'è un airdrop andiamo ad aprire a set? si, si ma c'è più a l'airdrop che tengo a 255 metri 88 pompe e 169 dicettine cosa ho capito a fa? per cu? si, lo fa vedete se c'è qualche scelta, capete? adesso lo fa, se vuoi dire un'altra scelta di più troppi segreati la solita parte la prima safe condotti confusi o pinnacolo o la mezza a chi lo pratica non ci stanno quasi i ripari non ci stanno io o il bianco ora si sa che non c'è qualche lunga non c'è bella l'artezza ma con il fantaggio di scioglie eeeh infatti c'è un po' un po' un po' lanciarazzi io l'ho aspettato prima sono due sono due una di tu al labbra una di tu al labbra voglio aspettate che ora arrivo io con lanciarazzi ci sto qua noooo quello che... eeeh paolo! intendoci iscrivetevi venite vai tu hai iscriviti la mamma se non c'è una mucca il battuto e sce la caprice della forza bella così beh le fai edice se hai sbagliato se hai sbagliato copre dove hai vai la paolo chi è sbagliato io io dai certo con un cavo sette a giro la roba a fanno che troppi scelgo o danno romper random prossimo a video cammini a cugliato un cavo con un bomba a girato sette danny a scutini attento Sì, sono scudo a destra, forse chi non lo ha a destra, io te lo serve Previti, no ma... eh, devi prendere i materiali Sì sì sì, buttami i materiali! Buttati i materiali, buttati! Sono un mega cocco in parte, vai giù Lo ho ammazzato, lo ho ammazzato Non so che roba Vieni qua, ti dà una cosa No, no, non mi serve, non posso vedere Eh, che ti posso dare? Eeeh... Tutti gli ucciso del gatto Lancia il tuo gioco E' per il tuo cazzo questo! No, guarda, ti salgo proprio con la mira quando sparo Eh, non so, ci sono gli fa headshot, e allora ci va Pannaggiche di... No, Paolo, ti ce lo toglie sicuro, perchè gli ucciso del gatto Eeeh... Sono morto, no a tutti i numeri che se ne fanno facciamo un caggia fatti termico è troppo piccola ma poi che li ho difetti su gioca troppo piccolo la mappa basta io me ne fumo proprio tanti film danny ci becchiamo alla prossima stacco pure perché non c'è proprio un altro niente mi annoi proprio dico la verità andiamo vi auguro una buonanotte ciao camion ciao guaglioni buona serata vabbè ciao 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 va giù non lo so mi annoio mi sfastire questa è la cosa no 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 lo so vai giù però il fatto è che se non bacino ma lo so sto annoiato ve l'ho detto sto proprio sfastriato non lo so magari ci cerchiamo domani o dopodomani voglio in live recuperiamo quello che andiamo fatti però a dare un momento che a supporto si deve andare un po' non lo so ma aspettate si sono nuovo per forza si si ma veramente non ce la faccio a parte si sta bloccando il tuo comune mi lagga la freccia c'è lagga la freccia ragazzi io vi saluto ci becchiamo domani o dopodomani sapete voi facciamo 7 8 ore di live non mi preoccupate un bacione vai giù ci becchiamo pagito vai giù mi preoccupate voi è perché mi sfastire vi dico la verità sono sincero lo sapete no che se devo fare una cosa è perché devo stare bene se no non posso fare una cosa così solo per questo ci becchiamo vai giù un bacione grazie